Questo ha un ghast lì Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo 13esimo episodio di Pokémon Light Platinum Randomizer Nuzlocke Nello scorso episodio abbiamo sconfitto la sesta palestra Per poi catturare tantissimi Pokémon Ai quali abbiamo affidato nomi ignoranti E quest'oggi dobbiamo entrare nel monte Ice Storm Monte Tempesta di Ghiaccio E nulla, i Pokémon sono rimasti completamente invariati Ho preso per questa volta i repellenti Così evitiamo sclerate del cavolo E nulla, inoltriamoci in questo monte Attiviamo subito il repellente Perché tanto la cattura l'abbiamo già fatta Iniziamo ad affrontare gli allenatori Ok, si inizia subito con un Blastoise Comunque vi invito a lasciare un bel mi piace ragazzi A commentare rispondendo alla domanda del giorno Perché signori miei questa serie va sostenuta Perché stiamo per, diciamo, raggiungere Penso dei punti cruciali Dato che di solito nei giochi Pokémon Verso la sesta, settima palestra Succede sempre l'evento Che poi contraddistinguerà, diciamo, la La fine della trama legata al team Malvagio Nel frattempo questo monte mi piace molto Però lì in alto io ho visto qualcosa Che non avrei mai voluto vedere Ossia, signori miei, io ho visto i puzzle di ghiaccio Finisce male, io ve lo dico Ehm, oh cazzo Devo buttare qualcosa Che due coglioni Ma vaffa, butterò Ehm, non lo so Do qua No, uff Ah Cosa posso Buttiamo un antiparalisi Non vorrei mai che io mi dovessi pentire di questa mia scelta Sul serio Allora, passiamo al Fortu Nuovo Ehm, no, dicevo Probabilmente il mio obiettivo di non sclerare Sarà felicemente andato a quel paese Perché qua dentro ci sclero sempre Dicevo, devo evitare di sclerare troppo Perché poi finito questo video Sto registrando che è domenica Ehm, dovrei andare in live con Frost 26 Quindi forse è il caso, signori miei Che io mantenga un tono equilibrato ora Lì c'è uno strumento TM07 con terragrandine suppongo Sì, perfetto No, allora io Allora, fermi Devo Devo, devo ragionare Ok No, perfetto Come Dio mio Gesù di Dio Allora, un attimo Fermi Ok, forse così ha più senso Allora Fermi Eh, bella merda Comunque GG a me Oddio Come cazzo si fa Allora Ok, perfetto Ce l'ho Ole Oddio Sciatori a caso Questi qua in teoria erano in quarta gen raga Non qua Ma va bene lo stesso Vespi Queen Rock Climb Aspettate Cioè Scala Roccia Non era di tipo Normale Una volta No, allora È Rocciotomba quella Però non si chiama Rock Climb in inglese Perché io sono abbastanza convinto Che in inglese Rock Climb sia Scala Rocce Se non sbaglio Rocciotomba È Rocctomb Ok, perfetto Stiamo arrivando nel nord della regione Giustamente non si era capito Dalle nevi E l'effetto repellente finisce Non siamo su Nero 2 Mannaggia a tutti voi Super repellente attivo Tu mi devi sfidare No, perfetto Questa qua è una cava pericolosa Ok Siamo già usciti? No Non è vero mai Però ci stiamo avvicinando Ci stanno congelando i capelli Oh raga Bevo un po' di tè Perché altrimenti senza il tè Come disse un famoso filosofo La vita senza tè È come un cielo senza stelle Già Proprio così ha detto il filosofo Eh no no Lo giuro Lo giuro Basta parlare con gli sciatori Ok Ora Il tè lo terremo qua Signori miei Chiuso possibilmente Perché poi va a finire Che sfanculo il pc Ci butto sopra il tè La serie finisce Il canale viene chiuso Ho la borsa piena Che due coglioni Putta Oh Raga Urge depositare strumenti nel box Urge depositare strumenti nel box Ecco Perfetto Tu Ah fai Ok perfetto Lo sapevo Ah Interessante Ok Questa cosa ci sarà utile Non tanto signori miei Perché ho due fortu nuovi Di cui non me ne faccio niente Ma per il fatto che il fortu nuovo Verrà diciamo Ehm Aggiunto Fra virgolette Al Verranno sommati nella borsa Di conseguenza Non ci sarà bisogno ogni volta Di fare quella Noiosissima storia Di creare spazio Per inserirlo Ok Questa cosa qua Non la posso ancora scalare Giustamente Ehm Icepoconarstrong Ok Sì vabbè ma queste cose Io le so più o meno Ok Allora Come al solito Come noi sappiamo benissimo Quando entri nei monti Si sviluppa il fenomeno Ho chiamato Porta elettrica Cioè le porte fanno suoni Come Cioè le Le grotte Sembrano delle porte elettriche Degli hotel Tipo quelle belle Però vabbè O più che degli hotel Degli ascensori Degli hotel Ma No Polneve Mica tanto Io mi devo ricordare Che sono in una Nuzlocke Che forse devo stare attento Che forse dovrei dare dei pipì su a Tarzan Perché altrimenti Non attaccherà mai nella vita Questo coso Ok Allora Dree Vai tu Direi John Frog Perché Perché si Ok Vedete che si sommano E quindi Tac Oddio il team steam Ottimo Tu Ok Ti sei allenato Non mi interessa Ah Sto qua Alla in altro monte Perfetto Monte winder Aspettate però Prima voglio andare a vedere Cosa vogliono Quelli del team steam Sta registrando Tutto a posto Ok Sì Questo qua L'ho appena battuto Mi sa Tu Ok Questo Un ettere Ciao Ok Perfetto Devo proseguire Ma ragazzi Questo qua è un nuovo monte Quindi vuol dire Nuova cattura Sì Vuol dire nuova cattura Quindi aspettiamo che finisca il repellente Ok Io di poche Le ho prese Vero Cioè Ne ho più che altro Dove siete Ultraball Eh Forse devo guardare Ok No 17 Dorebbero bastare Vediamo chi si trova Comunque Curiosa sta scelta Di mettere due monti Lì così Ok Qualcosa mi suggerisce Che qui non si trovano Pokemon Che dite Potrei aver ragione Potrei aver ragione Vabbè nulla Anche qua Evidentemente Basta la cattura Il team steam Signori miei Eccolo qua Che abbiamo ritrovato Io switcho C'ho paura di te Guardalo che fa Tail whip Ok Sei stupido Evidentemente Evidentemente sei Tanto stupido Però ecco Vabbè A parte che Thundershock Non fa nulla Ice beam E giù anche Venomoth Zo Oddio Zoroark La cattiveria Però muore anche lui E poi Spoink Giustamente dopo Zoroark Raga Spoink Cosa ha fatto Si è addormentato Da solo Ok No mi risultava Che Waterpulse Confondesse Non addormentasse Però va bene Lo stesso Ok Qua ci sarà La classica Sfilza di Reclute Che hanno Tutte Gli stessi Pokémon Giustamente Questo Temo sia Karma Perché Quando fai Un'intera serie Crazy Loc A nero A paralizzare I nemici Con statico Poi giustamente Deve succedere Anche a te Frame Fruwer Zoroark Giù E Venomoth Ci saluta Anche lui Perfetto Ok Spero che Non siano Tutte così Le reclute Se no Minalbero E ovviamente Signori miei Cos'è successo Spero di non doverne pentirmene Di buttare Il fottutissimo Antiparalisi Dimmi che ho una bacca Ti prego Mannaggia Ah Io so chi Ma non lo dico Eh vabbè Proseguiamo Fortunuovo Dove sei? Allora John Frog Per ora è Inutilizzabile Aspetta Tu volevi TM14 Geloraggio Guardate come mi ricordo le cose Blizzard Vabbè Più o meno Dimmi che Interessante comunque Questo gioco No davvero Vabbè Comunque Liquidata Che cazzo di mossa era Non lo so So solo che hai perso Levati Ok A tutti gli stessi poco Probabilmente rag Evidentemente I magazzini del team steam Avevano finito un po' Di scorte Allora Andato Ci hanno Lo starter pack Signori miei Mettiamola così Sarai mica Questa è Camilla Immagino che tu non mi conosca Ma ho sentito Molte storie Che circolano su di te E quando ho scoperto Che tu eri nel monte Ice Storm Sapevo che sarei Sapevo che saresti venuto qui Kratos Uno dei leader del team steam Sta provando a catturare Il pokemon Il pokemon Bianco E il pokemon Nero Quindi ho bisogno del taiuto Per fermarli Eeeh Davvero Sei cheat Eeeh Perfetto Si 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 Sei la Baldracca sei Ok Stanno cercando di catturare Il pokemon Bianco E il pokemon Nero Che E suppongo Suppongo Siano Suppongo Siano Kyurem E Kyurem Ciao Zekrom E Reshiram A sto punto Perché Altra soluzione Non la vedo Comunque Visto che ci stiamo avvicinando A uno scontro importante Io spreco l'etter Che mi è stato dato Per Gigadrain E nulla Proseguiamo Speriamo che adesso Non abbiano tutti i sidra Silk scarf Ma me la risparmio anche Sinceramente Ok Perfetto Evviva Non sia mai Vero Non sia mai Guarda che mi paralizza Uh perfetto Ho switchato Pursuit Psybeam Cut Ok perfetto Le ho provate tutte le mosse Io ho paura che mi paralizza Sto stronzo No ok perfetto Non mi ha paralizzato Spoink va giù con Pursuit No regge Però adesso muore E infine Zoroark Che è una merda Ok perfetto A casa pure lui Ottimo Cioè Io in questa Ho sfiato 5 reclute del team 4 reclute del team Steam E in 3 Avevano tutti gli stessi pokemon Ed è randomizzato questo gioco No ma giusto così Tu nei due Oh incredibile Non ci voglio credere Pokemon normali Un miracolo Guarda Warthortle Shadow Ball No bite Cazzo che super efficace Muori Ole Questo cos'è Monte winter Sempre Io mi devo sempre Uh ma qua ci sono alberi Alberi belli tra l'altro Alberi belli su cui però A parte che Vabbè Io smetto di dirlo Su cui ho visto dei disegni Poco raccomandabili Poi ci faccio il clickbait Come il video per instagram E via Muori Spoink E muori anche te Ole Raga ormai C'è praticamente C'ho gli automi Per buttare le giusti cose C'è Gli automatismi Proprio C'è Lo faccio senza neanche pensarci Buce E falo il tuo momento Se solo john frog Non fosse rimasto Paralizzato Manderei lui Però sapete come Non voglio rischiare Perché ci sono Delle vagine Disegnate su sti alberi Perché lo state facendo Produttori Allora lì c'è una caverna Però lì c'è una recluta Quindi deduco di dover andare di qua Di conseguenza Andrò a esplorare l'altra parte Per un senso di completezza Che altrimenti mancherebbe Ottimo Questo qua Come al solito Può raccomandare l'altro allenatore Ora cosa si confonde Però io me ne frego Perché ti faccio un artwork Ti sciotto No non è vero Proviamo adesso Muori Olè Perfetto Molto sintetica Come battaglia Hai sempre Monte winder Winter Come cazzo te chiami Fermi E' morta la musica Mi devo preoccupare No Che diamine è? Sembra tipo la vetta lancia Oddio Il raffreddore Ok Ora Di qua non c'è nulla Suppongo Neanche di qua Quindi deduco Che prima qua Ci fossero i due Pokémon leggendari Ma che adesso Non ci siano più E suppongo anche Che noi dovremo Entrare Qua Nella parte centrale Ok Come te Sei arrivato Troppo tardi In ogni caso Reshiram e Zekrom Sono già stati Rilasciati Ora posso Catturare Posso catturare Entrambi E finalmente Ottenere i nostri Obiettivi Ma prima di fare Questo Ti distruggerò Come l'insetto Come l'insetto Che sei Come l'insetto Che sei Si wow Che bella metafora Ok Lo temo Dirò la verità 51 E cara Grazia Che è un'abra Terrakion Merda Perché io non me ne sto Zitto nella mia vita Ok Terrakion Forse Sasha È abbastanza indicata No Non lo so Se ti faccio Il lovely kiss Ti addormento Perfetto Water pulse Ok ti faccio male Sì T'ho pure confuso Va che va giù No Ha retto Però adesso dovrebbe morire A meno che non si carica Sì Perfetto Metang Oddio Prova a contrastarci Con semaforo Questo I jump kick Iron defense Ice smash Iron defense Di nuovo I jump kick Ah Questo fa malissimo Ok Perfetto È andato giù Psyduck Ok Se tutto va bene Dovrei averla vinta A meno che sto Psyduck Non faccia qualcosa Di Inaspettato Forza E stab Giù Ok L'abbiamo vinta Battuto Senso Ma è che tra Groudon e Kyogre Avrebbe potuto arrivare No Arrivare a Zekrom Ehm Perdonatemi Arceus Zekrom è già qua Fino a prova contraria Attenzione Oddio Incredibile Quotato Quotato a 0,90 Ark 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 Ok Gli ha fatto Praticamente Gli ha tirato tre Ancate Se ne sono andati Ok Ed è la tipo La quinta volta Che interviene a difendere Però va bene Lo stets Oggi non riesco a parlare Questo è incredibile Il potere di Arceus È riuscito addirittura Ah no Supera addirittura I nostri più selvaggi sogni Perfetto Tutto sta funzionando Dopotutto Basta Ti prego Team Steam Ritirata Sei stato bravo Spero che tu possa Continuare ad essere Un grande allenatore E raggiungere i tuoi obiettivi Ora la società Pokémon E io Continueremo a combattere Il team Steam I capi del team Steam Ad ogni costo Ehm Goodbye Creepy Ok Perfetto Quindi sembra che Tutto Questo Diciamo Tentativo Di istigare i leggendari Si è volto Semplicemente A Istigare Arceus In modo tale Da poter Fra virgolette Controllarlo In un qualche modo Non me la spiego Molto sta cosa Però sembra essere Effettivamente così Comunque Signori miei Adesso possiamo proseguire Immagino da questa parte E soprattutto Possiamo attivare Il repellente Dato che qua Mi ero già scordato Che c'erano i Pokémon Selvatici Ok Farai schifo E vabbè Allora Fermi un attimo Curiamoci Con calma Sì Io me ne sbatto Sinceramente Non voglio perdere Pokémon Quindi mi curo Fino alla morte Io qualcosa Per la paralisi Non ce l'ho proprio Ehm No E vabbè Lo affronteremo Senza cose Per la paralisi Che ci dobbiamo fare Oh ciao Creepy Vedo che il tuo team di Pokémon È diventato molto più forte Dall'ultimo nostro incontro Ehm Sono reduce Dalla seconda Medaglia Dalla settima medaglia Ma penso che io possa Prendermi Ah no Sto andando A ottenere la mia settima medaglia Ma posso Penso che io possa Prendermi una pausa Per sfidarti Oggi raga Non so cos'ho Ma sono dislessico Ok È comunque Più debole Di Kratos Però Comunque mi preoccupa Lui però È stupido Continua a fare agilità Livello 53 Riduttore No Direi che non ne vale la pena Octillery Allora Mandiamo di Vmove Facciamo un hijump kick Così cattivo Lui fa Aurora Beam Non dovrebbe essere un problema Headbutt è giù Perfetto E poi Uh nido king Eh questo è Antipatico Però Tentenna Lui fa trash Forse ce lo facciamo Non dovrebbe curarsi Olè Perfetto Battuto anche Kenta Wow Ottimo lavoro Penso che la professoressa Jasmine E tua madre Siano davvero orgogliose di te Stai diventando un grande allenatore Sento che tu possa Ambire a grandi cose E mi sorprendi Ogni volta che ci incontriamo Ma la prossima volta Farei meglio essere pronto per la sfida Me lo stai dicendo Tipo dal primo episodio Ed è dal primo episodio Che ti sto prendendo a botte Che bel percorso Raga Oddio Questo è proprio figo E E quella Penso sia stata decapitata Tipo Vabbè Non ci facciamo particolari domande Raga Io provo a mettere John Frog Anche se è paralizzato So che è un rischio Però comunque adesso Non dovrebbero esserci allenatori Dalla particolare forza Quindi Insomma spero che non debba morirmi malissimo E contro un matchup Body slam Fa submission Ma si fa male da solo E poi Montagna Eccolo qua Noi ce l'abbiamo nel box Un larvitar volendo Ok questa l'abbiamo aperta E abbiamo qua La TM46 Che contiene furto Vero Mamma mia Io mi ricordo troppe cose Raga Ok qua c'è da far la cattura Finalmente Ma forse ne abbiamo Attivo ancora Repellentesi infatti Quindi Disattivati 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 Ok perfetto Vediamo cosa ci capita No L'abbiamo già trovato Quindi direi che ne dobbiamo trovare un altro Ma come Tinamo Ma come Tinamo Raga Come fa a trovarsi qua Ok Era annumizzato Che poi raga Noi abbiamo già Randall Quindi No Non posso Cioè Abbiamo avuto Randall Quindi è la Spice is close Non possiamo catturarlo Sto coso Quindi ne devo trovare un altro Signori miei Dopo John Frog È arrivato il momento Di un altro grande ritorno Chissà Chi se lo ricorda La Boba Snow Della Crazy Lock A nero 2 A nero Scusatemi Il nostro Fottutissimo Starter Quello che è morto Per colpa Della sua grandine Eroe Lui era Era geniale Raga Oh Innanzitutto lo riaddormentiamo Perché ti sei svegliato Troppo presto Madonna se ti faccio John Frog Ti prego Ti vendo Ti vendo al mercato dell'usato Oh perfetto Allora Sostituiamolo Mandiamo Tarzan Attacchiamolo con un Quick Attack Adesso gli provo a tirare una Pokeball Perché sto stronzo Si è messo a fare le Le cavolo di radici Eh ma non entrerà mai nella vita Però Ti prego Entraci Per sbaglio Per sbaglio Ti chiedo Uh Incredibile Non ci credo A Bobasnow Frost Tree Pokemon Siccome tra un attimo Devo andare in live con Frost 26 Questo lo chiamiamo Fabiet Dov'è Fabiet Fabiet Spero che tu sia orgoglioso Di essere diventato una Bobasnow Ottimo Poi mi dovete spiegare Perché c'è una fottuta Anguilla In quest'erba In quest'erba Cioè No davvero L'avete messa Creatori Siete così Messi male Da scambiare un'anguilla Per Vabbè Poche domande Siamo già a 21 minuti Raga Questo ha un ghast Questo ha un ghast Lì Ma è un casino Ok Raga L'ho vista Malissimo Sta cosa Perché devo avere Le difficoltà Con i ghast Lì No io ho paura Ad attaccarlo Sto coso Ok Scampato pericolo Però raga Il terrore Sul serio La paura Cioè A me è andata benissimo Non so se ve ne siete accorti Che io ho miscliccato E ho utilizzato Body slam Che non aveva effetto Perché se avessi usato Surf A quest'ora John Frog Sarebbe morto Dio Mio E poi Le anguille Nell'erba Vabbè ma Ormai E per stare Al caldo Nel freddo Devi muoverti Soprattutto non devi stare Immerso nella neve Ok perfetto Hai visto che mi ascolti Ma a sto punto Io attiverei anche Un bel repellente Tanto i pokemon Non sono più randomizzati Ormai lo abbiamo capito Quindi Perché Farsi tanti problemi Io di questo C'ho paura Purtroppo raga John Frog Ha subito sta delimitazione Inizio episodio E adesso È un po' nella merda Comunque Questo qua Dai un flare Non suppongo che un surf Possa bastare E invece Regge addirittura Olè perfetto Metapod Madonna raga La potenza proprio Ciao È stato un piacere Ok Ciao 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 Come va la vita lei Poteva anche Avvertirmi Che era dietro L'angolo Ad aspettarmi No Torna 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 Aromaterapia Ma basta Fare aromaterapia Che non serve a niente Draw Usi E io ti faccio Un palla ombra Eh vabbè Vabbè Morirai Cosa ci vogliamo fare No aspettate Di qua cosa c'era È infatti Uno strumento Il gelomai Sì Dovrebbe essere il gelomai Non vorrei sbagliarmi Fatemi No Massimo controllo Dopo in editing Però dovrebbe essere proprio lui Tu stai allenando un Torchic E quest'erba curiosa Quest'erba qua è diversa dalle altre E questi alberi qua sono bellissimi Aspettate fatemi vedere se c'è qualcosa di particolare in quest'erba Perché non si sta mai Un spill Non sarebbe stato malaccio Però no Non sono randomizzati Anche qua i pokemon sembrano essere più o meno tutti gli stessi Eccezione fatta per Shymin Buonanotte Ma come lo ritiri A parte che sei morto male Aspetta Tu eri Ok ci pensi tu da solo Bastava dirlo Io John Frog lo ritiro C'ho paura Mando Tarzan E comincio ad andare di attacchi rapidi Muori 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 Ho capito Mando Sia No Eh eh Mi skrick belli Mi skrick belli comunque Trash Ok è morto Perfetto Oddio Sta diventando troppo lunga sta parte effettivamente Perché Cioè spero più che altro che Aspettate L'ho visto solo io il mio riflesso nel fottuto cartello Benissimo 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 Bello 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 No io voglio quello strumento comunque Perché Se è messo lì così sarà sicuramente importante raga C'è poco da fare E invece è una dive ball Chissà perché Appena ho detto che secondo me è importante No 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 Sei un cancro infame Tu vai via Ok C'è raga Vi rendete conto che io c'ho paura dei fottuti gastli E Mi stanno mettendo più in difficoltà del dovuto in questa parte Vogliamo morire Vogliamo morire Ok Grazie Ralse Ma muori Ma c'ho Pursuit Ma non vivi più Ma ti spedisco nella dimensione Nel mondo distorto Da qualche parte Eccolo qua Illuminati Vabbè Super potion la lascio anche qua Tanto Ma quanta gente c'è qui Ma quanto è lungo poi sto percorso Ma Dio mio Oh mettiamo davanti Divi Move raga Che è l'unico a full vita Cioè i nostri po' praticamente sono tutti decimati Tutti morendo Allora Fortune nuovo a Divi Move Mi sta venendo pure il mal di gola A furia di registrare Io Tra 20 minuti Dovrei essere in live Se permetti Caro mio Gioco Bello Quindi se Magari Non mi fai fare un video di 40 minuti Sarebbe anche una cosa interessante Uh Camerapt Muori Bene Sono stato molto cattivo Però ci voleva Ma perché Ma questi qua se ne stanno camperati Nella neve Aspettare Me che passo Per poi sfidarmi Questo cosa sarà mai Una furia Sì il cazzo Butto il gelomai Tanto Il cazzo lo userà mai un gelomai Non ce l'ho mai Cheat Il gelomai Non ce l'ho mai Non t'ho visto Ti ho aspettato Dietro a questi alberi Congelati Per secoli Aspettandoti Non potevi congelarti Anche tu Non potevi Fotterti No Dovevi metterti lì E aspettare Che io lo prendessi In culo Kingdra Poi c'hai Ritorna E Bucefa Lo provo a mandare Raga Ok Minchia Che Che Perché Poche trainer Madonna Il migliore di sempre Proprio Cioè Raga Bolla Su un Kingdra Il 50 Me la devo segnare Questa No Vi prego Basta Non è possibile Siete ovunque Raga C'è Ovunque Quanti siete Dio mio Cioè Devi essere malato Per mettere Così tanti Gesù Cristo Così tanti allenatori In un fottuto percorso Devi proprio avere la La segatura Nel cervello Stare di amore Oh Perfetto Crobat pure No Confuse rail e palle Devi andartene A casa A casa Ok Ho visto quel wing attack Raga Ho detto Ok Qua sono morto Ok Forse ci abbiamo fatto Se Se arriva qualcuno Non per mille balle Giuro che L'ho un mazzo di botte Ok Questo Ah ok Il porto Della città innevata Perfetto A tutto senso Ok Qua ci sono delle gru Vabbè Ho appena Compenetrato una gru Raga Domani mi chiamo Gru stories Se trovate il mio nome Così su youtube Sapete perché Adesso Oh No Non lo farai Ah Ecco Ci siamo chiariti Eh Io già Gli infarti Raga Fatemi solo esplorare Di sfuggita La città Che è gigantesca Tipo Ok Lì c'è la palestra Presumo di tipo Ghiaccio Ma tanto sono randomizzati Io Cammino sugli alberi Cammino sugli alberi Hashtag Creepy scimmia Ma Cosa succede Laboratorio astronomico Ok Copiato da Verda Zupoli Comunque signori miei L'episodio di oggi Finisce qua 29 minuti di episodio Ora che finisco l'intro Saranno 30 Considerando anche le cose Che metto in inizio video Si saranno 30 Spero che questo video Vi sia piaciuto Se così vi invito Come al solito Lasciate un bel mi piace A commentare E a iscrivervi Al canale Se non avete ancora fatto Mi raccomando Rispondete alla domanda Il giorno che sarà Come al solito Qua sotto nella side Varei passati ai social Che troverete in descrizione Instagram 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 Che è nuovissimo Quindi mi raccomando Passate E noi ci becchiamo In un prossimo video